Salve a tutti ragazzi siamo i Clashers oggi sono sempre in compagnia di Serra Statale adesso faremo qualche partita su Brawl metti sopravvivenza sopravvivenza mettiamo? anzi partiamo da raffa gemme vai facciamo qui la prima partita la nostra strategia è far prendere tutto a me perché sono diciamo il dps mentre lui il tank e mi deve proteggere giusto? ok speriamo che questa shelly sia decente perché altrimenti abbiamo perso abbiamo contro una bruttissima attento abbiamo contro una bruttissima bruttissima jessy che è che diciamo sfotte tutta la nostra strategia ma che sta facendo questa? questa qui è un poco inutile lo so vai vieni qua corri corri non fargli recuperare la vita perché altrimenti finisce attenzione attenzione shelly si è eliminata io pure mi sono eliminata da sola anch'io mi sono eliminata sì però c'è quel pocio che è il cesto di gemme quella legge eh lo so non fa bene oddio quella con la shelly muore non so un come si chiama? un engagement buono no no come si chiama? prendi quelle cose abbiamo perso nooo stavo per fare la ulti eeeh mi sa di che abbiamo perso mi sa che ci hanno distrutto eeeh probabilmente basta eliminare quella che ne ha due attenzione dai pocio scappa con la ulti dai pocio no cara ti faccio fuori oddio mio oddio 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 nooo nooo abbiamo perso alla fine mi sa nooo abbiamo fatto una cosa epica signori corretta e inutile per il più sicuro ahah di quanto? di quanto? eh non mi si è recuperato una vita eh perso è niente è niente ok cambiamo la nostra strategia no devo mettere devo mettere un uno che spara metti pocio ce l'hai pocio? si però no qua no c'è uno dell'altro accanto allora metti jesse si ok jesse copiamo la loro strategia esatto poco no però dai copiare così spudoratamente no si è bello beh tanto non li trovi niente contro cheat no beh è impossibile ritrovarceli contro l'antica può essere ma è vero è vero che bello eh lo sai fortissimo jesse ah ma quindi il treno mi blocca i colpi certo e chi lo serveva? fai prendere tutto il leon si si vai leon renditi utile al mondo mi hanno ammazzato mi hanno ammazzato ok cioè quindi tu che fai curi e basta no mi faccio un sacco di danno e curi anche e curo anche o soprattutto soprattutto in realtà ok è il risulto dai vieni leon no mattia non la prendere la genna e ho sbagliato di poco si si e mi disse di poco perché sono poco che quello si è fatto prendere dal treno quello perchè è un genio guardalo come vuole suicidarsi guarda esatto vuole morire no guarda guarda tripla chilo che stavo per fare attenti al treno che qua finisce male oddio orri leon vai via ok abbiamo vinto troppo forte jessico con il discorso che spara anche agli altri è troppo forte eh lo so però adesso dobbiamo cambiare modalità usiamo usiamo vabbè facciamo ruba ai regali è andato pure il migliore incredibile che non ho dato a te vai però devo rimettermi al primo perchè ho perso poco metti ruba ai regali è il primo è troppo forte il ruba ai regali vero bu come bu allora io questa mappa la odio perchè mi fanno rerento vabbè dipendo in che direzione la prendi eh si però dico brava brava ma è ritardata ma è ritardata ma è ritardata non morire puscia puscia vai a prendere la cosa ok la prima o la prima ho preso ok si si guarda quel barillo ti ho anche curato quel barillo che trova esatto oddio ai sono morto attento perchè sta andando anzi più è la cosa vabbè mi ha distrutto con la ultima è troppo troppo prevedibile la sua giocata attenzione che c'è una persona qua davanti ma sai tu c'è una scobarra contro come scobarra c'abbiamo una scobarra contro si chiama così si guarda è panna ma che ok si ciao caro c'è una scobarra povero sai che c'è puscia che io c'ho la cosa per curarti vai ma vatti prendi il regalo no non lo lanciare alla persona e noi ho fatto così ma me lo lanciano dietro non so perchè ma dove abbiamo preso il loro il nostro si abbiamo perso no no uno a zero uno pari voglio dire ma che è ti ho curato si però è inutile tanto mi ha distrutto comunque uno a uno uno a uno non va bene non va bene dobbiamo stare attenti qua e c'è sfuggi che vengono da lì si lo so dobbiamo pusciare tutti e tre anzi no 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 io vedo indietro perchè qua c'è Pam che è pericoloso sai vabbè ma che cazzo fa sto qua io sono tipo là dietro io sono in colonia vero? sì 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 infatti mi hanno ammazzato vai non puoi far puscere nessuno bella vuoi da tutti matti 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 ci sta distruggendo ci sta fuendo il regalo lo so ma io non posso ucciderlo bravo l'ho ucciso ma c'è l'altro c'è la posizione da dai riesco a bar l'ha rubato riesco a bar è colpa di riesco a bar plata o plomo vai vai come pablo come pablo riesco a bar esco dal bar esco dal bar sapevo che eroi bene bene credo che la stecca sia inutile per questa modalità adesso adesso tipo fare peggio kill esatto come sta accadendo vero? no no non far distruggere la base matti e che fai mi faccio uccidere io non ho capito meglio ma cosa meglio oh c'è il regalo c'è il regalo qua qua ma vero te l'ho detto devi trovare un po' pin questa manca contro tutte le aspettative dai vieni po' dai che sei la nascosta un po' ma io sto un po' indietro perchè c'è quel bull ma sbaglio c'è un colpo qua si esatto c'è un colpo qua vieni qua vieni vieni sul fai devi prendere il regalo devi prendere il regalo hai visto però The Rock ha fatto un po' di The Rock The Rock vabbè The Roy The Roy ha fatto un po' di kill si bello ultimo questo è un modemile lei ha appena beccato si ma oddio ma è cretino questo oh mio dio è perso questo vai è lo momento dai 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 prendi la bravo dalle a sto The Rock Inutile ! l'avete visto tutto il pirlo? dammi il regalo ma è fortissimo The Rock buttalo pure tu oh mio dio ma solo perchè c'erro I uitico the rock è tutto fortissimo stacca inutile in questa organità Eh vabbè Poco è forte perché c'è la chitarra Sì certo Ma non è una chitarra Quante corde sono? Ah sono quattro corde Cioè mandolino Ciao E un uccurale Sì è un uccurale ventunesimo soprano Ti vorremmo che c'ho colta a livello 5 Ma al grado 1 Usa colta allora Ma si fa non lo so usare colta Allora facciamo Foot Non è per corte foot Foot è per Frank Non ne so io mi dispiace Beh tu ce l'hai più forte Quindi toghi Come? Io prenderò una Usa rosa che è fortissimo Ok tu pusci Io ti distruggo Ti stanno tutto Tu devi aprire la base Ho scoperto che Dynamike è troppo forte Ma Anche se ancora non ce l'ho Ma è troppo forte Dai Come non ce l'hai Dynamike? No non ce l'ho Dynamike Ancora Perché pusci già? Perché fai gol Tanto? Sono tutti ritardati qua Ma che cosa? Mamma mia Sto facendo conto di nuovo Matti L'ho visto Sto facendo conto Wow Tento che là c'è qualcosa inutile Che è inutile Mamma mia Tutti forti Dai Matti Vieni ad aprire Al massimo me la passi Usi la Ultimate No sono morto Non serve E invece No Se usavi la Ultimate Non morivi Ma l'ho usata la Ultimate Per lanciare la palla Ma no Per usarla proprio Per avere lo spunto Ma intanto ce l'ho carica a metà Perché dico Mi stavo per distruggere Prima Non è che Distrutto Perfetto Passami la palla Già non ce l'hai tu Ah Eh ciao Beh colto è quando la prende Quando la mette bene Il nostro amico ci distrugge la base Perché è un genio Ma no Non è vero Lo stava per fare Passa No Mattia Che cosa fai? Mattia Tira Ma come lo tiro Che c'è il tizio davanti Tira Tu tira Non è passato troppo avanti Un tiki taka fallito Il tiki taka Tiki taka è il passaggio Lo so Tiki taka Dai ma prendete la palla Invece Ma come faccio a prenderla io La palla Ma no tu l'altro Uh Ahia Buono buono L'hai chillato Giona Dai almeno Ma perché non ci passi una palla Solo per perdere tempo Facciamo il tiki taka Per perdere tempo Dobbiamo reggere Come come si diceva? Guardalo questo gol Dobbiamo tempo reggiare Abbiamo vinto Guardalo il migliore Sempre il migliore Allora sei una di quelle Che non perde tante coppe Quando gioca con me Un tizio russo Mi ha invitato Io rifiuto E tu rifiuti però Allora Matti Metto Shelly Che mi mancano Quante coppe Per passare Dal grado 15 Penso 10 15 20 20 20 20 Facciamoci un po' di sopravvivenza Però dobbiamo iniziare Perché Fai ricercato No Che hai ricercato Con Shelly Ma com'è Sopravvivenza Sopravvivenza Dobbiamo fare le sopravvivenze Anche che stiamo a counterare Ma almeno terzi Dobbiamo arrivare Ok Perfetto Senza casse al centro Vieni Uii Non ci sono casse Ma che si è glicciata la lappa Mi stai dicendo che si è glicciata la lappa C'è una Shelly Sì lo so Vedo che la tua soluzione Non è una di quelle Aspetta Ma c'è Praticamente Si è vero Glicciata la lappa Forse Wow Ok Un team è morto Perfetto Facciamone modere un altro Eh Questa qui è difficile però Ma senza lappa Cioè senza cosa Iii Mattia Vai No Non ci credo Non ci credo Rimarrò vivo per te 3 squadre Dai Matti occhio Non per ti uccidere Ammazzalo bravo Ma quella prende A me la gemma Eh Non ci ho fatto caso Sorry Cazzo Matti mi sa che quella piper Non ci distrugge Ora con la volta Pusciala Pusciala Cosa Sì Matti Facciamocene altre due Dai Mi vedete se ci ho caso Sì C'è la domenica Sì Va bene Facciamoci le ultime due Così porto a scegliere il grado 15 E poi finiamo il video E poi finiamo Che già saranno tipo Per meglio dire le ultime due Vittorie Non le ultime due Esatto No secondo me è proprio la mappa Glinciata Cioè secondo me è proprio il gioco Che ha deciso di fare La modalità Sì No Matti non va bene Stavolta Eh Ti ho lasciato Ok Dovevi usare l'ulti Matti Dovevi usare l'ulti Per bloccarla Ma non ce l'ho l'ulti No dico Dovevi usare l'ulti Per bloccarla Alla dietro Ma non ce l'ho Ok Non è anche prima Vai Ciao Ciao No è scappato Sì che codardo Che infame Vieni qua codardo Dai dai che mi faccio 36 kg al centro mappa Anche se non abbiamo gemme Vieni perché Sta spawnando il suo amico Ammazzalo Cazzo Scappa Ultimate Ultimate Non ce l'ho Ce l'hai L'avevi ucciso Sì ok Però Attento Non lo usare adesso Usala quando È proprio accanto a te Sì ce la puoi fare Giovanni Matti Vieni qua Vai che sono morti entrambi Che coda Che coda Vieni Vieni Che coda Mamma mia Mi hanno fatto morire Sotto la Sotto la meteoro Ma è fortissimo Frank Due punti Matti Due punti Due coppe Due coppe Vai vai Dai 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 Per esempio Si ferma per un Istante Eh lo so che Si ferma No non le fanno i suggerimenti Ah Dai vieni La solita Tattica Matti Vieni qua La solita Tattica Non c'è nessuno Andiamo al centro Aspetta Ok Ok Occhio a quella Shelly Occhio che ci sarà un altro Vieni Matti Ma che cazzo Vattene Ecco Mi hanno ammazzato No 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 Usa Usa quel Quel cosa per volare Poi Aspetta Aspetta che devo giocare con Colt Ma che no Se n'è andato Perché è tocra Oddio Giochiamo con Colt No no Anzi no Matti Vieni 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 qua Matti Counteriamo 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 Voglio dire Scusa Ho sbagliato Lettera Vieni Vieni Stiamo a camperare Ecco Tre squadre Adesso possiamo pushare No 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 Quando ne rimangono due Pushiamo Quando ne rimangono due E li fanno anche Vediamo Quando ci possono Occhio Cosa Dai 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 Ora Pam No niente Ti ho provato Caspiterina Per forbacco No adesso Adesso si possono dire Parolacce Adesso si possono dire Parolacce Perché Perché C'è tipo una legge In America Guarda C'è tipo una legge In America Che tipo Ho fatto Una multa A Youtube E quindi Cerca No anzi Facciamo che Finiamo il video Finiamo il video Va bene Ok ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E una volta per tutte Mattiz Non c'entra un cazzo In questo canale Esatto Ricordiamo che Mattiz Non c'entra assolutamente Niente Con il nostro canale Niente Niente Clashers Autonomi Nati Autonomamente Non perché ci siamo Distaccati da lui Esatto Non siamo i stessi Clashers Di Mattiz Esatto Salutiamo Mattiz Salutiamo Mattiz E niente Ci vediamo al prossimo video Bye Ciao